Il mazio di presidio del concetto di resistenza è il mondo del lavoro, cioè proprio il posto dove bisogna veramente resistere. Però questa è una canzone che non si può cantare da solo, o meglio, purtroppo inizia da qualcuno isolato, però poi più persone si uniscono, più c'è la possibilità. Ma quando vogliamo un lavoro? Meglio. Voi non vedete l'ora che, come dire, mi rubino, nel senso che ci sia più bisogno di noi. In questo senso, quella è la cosa che più si ruba più. La mattina mi sono svegliato, della ciao, della ciao, della ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato il vaso. Martigiano, dai via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Martigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da Martigiano, tu mi devi seppellire, seppellire su montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Sempre vive, da su montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno, mi diranno che il bel fiore, questo è il fiore, il partigiano. Ma non si può dire anche dell'operario, però, che vive per la libertà. Ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore, il partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore, il partigiano, morto per la libertà.